Sport e vita vissuta, questo in sintesi il riassunto del documentario monologo lo sport di vivere presentato sabato scorso a cura del giornalista Carlo Nesti a Loreto Aprutino. L'essenza dello sport di vivere è infatti quella di raccontare emozioni e sentimenti attraverso gli eventi sportivi ed è proprio tramite parole, immagine e musica che Nesti ha provato a unire insieme questi due aspetti.